buongiorno ora un po che sono andato a pia stanotte eh hai visto questi tutti stanotte l'ho preso senti 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 colore senti 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 fermati addio scalzo no scalzo dopo anche oggi 60 grammi pesati proprio no è in troppe ma tutte se tagliatele ritagliatellate con tutto su cartufo ritartufato con mento con se girate la telecamera tartufon delle tartufon che dieta è? ma perché si è rompito? che dieta è? che dieta è? fino in pomeriggio ma le infusioni attorno è scato a scuola arzuche o no? o no? arzuche? eh? arzuche? oh che arzuche? oh qua c'abbiamo una persona che fa freestyle freestyle particolare fa il freestyle delle dentiere fai vedere come muovi il trick con la dentiera vai ma va che affanculo fai vedere perché prima mosso la dentiera dai fai vedere dai fai vedere come è fatto quel moro con la dentiera fai vedere tu sei un freestyler delle dentiere tu sei un estruso ecco